Ciao a tutti ragazzi, sono la Pitons e oggi è arrivata la Befana, venite a vedere com'è, venite, guardate, ha portato la calza, in realtà la calza è di Valentina, ma la voglio aprire io, non ditelo a Valentina, ok? Secondo voi se apro la calza di Valentina si arrabbierà? Secondo me no, dai facciamolo, andiamo a aprire la calza della Befana, vediamo la Befana cosa ha portato a Valentina e anche a me, vero Befana? Dove è la Befana? Ah è venuta stanotte, adesso controlliamo cosa c'è dentro la calza, non vedo l'ora, quante cose, adesso controlliamo subito, silenzio perché se no si mi sente Valentina, poi si arrabbia, Ma io sono golosa ragazzi, non ce la posso fare, ragazzi, quante cose buone, ragazzi vediamo la Befana cosa ci ha portato di buono, allora vediamo un po', abbiamo i marshmallow, ragazzi, io amo i marshmallow, adesso li assaggiamo, voglio subito provarli, non vedo l'ora, ecco, l'ho già perdita, l'ho perdita malissimo, adesso Valentina si arrabbia con me Mmm, che buoni questi marshmallow, sono buonissimi ragazzi, a voi piacciono i marshmallow, a me si, andiamo, e questo cos'è? Ma questo è il trinchetto, è una bibita alla caramella tipo, voglio provarla, ragazzi, adesso assaggiamo questo trinchetto, wow, ma è caramella liquida ragazzi, è buonissimo, grazie Befana, mamma mia quante cose buone ci ha portato la Befana, adesso vediamo, ragazzi, Ma ci ha portato dei soldi, wow, ma siamo ricchi adesso, aspetta, ma questa, ma questi non sono soldi veri, ma è cioccolata, wow, aspettate ragazzi, dei soldi a forma di cioccolata, mmm, che buono, ragazzi, avete mai provato i soldi a gusto di cioccolata? Sono buonissimi, mmm, mmm, e questo? Delle bubble gum, vediamo un po' com'è, ma cosa sono? Cosa sono queste? Wow, cos'è questa cosa così? Vediamo, Tobia, vuoi anche tu le caramelle? Non puoi, i dolci ti fanno male, ma questa... E' una chewing gum! Che buona ragazza, è buonissima, però dobbiamo ancora assaggiare tutte queste altre cose, non possiamo mangiare la chewing gum adesso! Un ciuccio! Ma io sono troppo grande per usare il ciuccio, forse Valentina, no, ma neanche Valentina può usare il ciuccio! Vabbè, ma secondo voi il ciuccio lo mangio io o lo mangia Valentina? Ce n'è solo uno! Direi che questo lo lasciamo a Valentina, tanto lei non può sapere che io l'ho assaggiato! Shhh, mi raccomando, nei commenti non scrivete che l'ho assaggiato! Wow, e questa cos'è? E' una caramella... E' una specie di liquirizia, però dolce che non sa di liquirizia in realtà, però molto molto buona, molto buona! Dobbiamo dire a Valentina che la befana prima di dargli i dolci e assaggiati, perché così non diciamo che l'ho fatto io, ok? Ma queste sono delle caramelle, ananas, limone, pera, lampone, arancia! Cosa proviamo? Anche questa sembra una chewing gum! Mmm, wow! Mmm, mmm, wow! E' dolcissima! Ragazzi, i coccodrilli! Io amo i coccodrilli, sono buonissimi! Anche tu vuoi una caramella? Tobia, non puoi mangiare le caramelle, perché le caramelle ti fanno male! Vediamo! Eh, guardate che carino, ragazzi! Qui è bianca e qui è blu! Mmm, mmm! Sa proprio di caramella gommosa! Mmm, molto buona! Bene, ragazzi! Io direi che abbiamo assaggiato tutti i prodotti della calza della Befana! Valentina ancora non c'è! Mamma! Mamma, dove sei? Ragazzi, mi sa che Valentina si sta alzando! Mamma! Niente, Valentina! Valentina! Valentina, stai ancora in camera! Valentina! Stai in camera, Valentina! Non puoi venire adesso! Oh, ragazzi, aiuto! Mamma! Stai arrivando, Valentina! Allora, che stai facendo? Niente, Valentina! Non puoi entrare perché è per terra bagnato! È tutto bagnato! Non puoi entrare! Mamma! Mamma! Ehi! Ciao, Valentina! Mamma! Che stai facendo? Valentina! E niente, Valentina! È arrivata la calza della Befana! Guarda che bella! Wow! Ma che cosa hai in bocca? Stai masticando? No, non ho niente in bocca! Cioè, ho assaggiato delle cose in frigo! Avevo un po' di fame! Dai! Sì, questa è la tua calza! Tieni, Valentina! Lo so! Dammi qua! Che? Non è che manca qualcosa? No, non manca niente! Ma che? Non manca niente! Non ho assaggiato nulla! Adesso controlliamo! Vuoi controllare? Valentina! Ma... Ma c'è tutto aperto! Sei stata tu, mamma! Non sono stata io! I miei marshmallow! Valentina, no... Non ho fatto niente! Sei stata tu! Ma non sono stata io! Sarà stata la Befana che voleva provare la qualità dei dolci che ti ha... E io ci credo! Perché mi lanci? Valentina, non mi lanciare i marshmallow! Stai dicendo delle bugie! Sei bugiarda! Ok, ti dico la verità! Sono stata io! Va bene? Lo sapevo! Ho trovato un po' di dolci! Non ho resistito! Ma se vuoi... Possiamo dividerla! No, no, no! Siamo mamma e figlia! Dovresti... Come no? Perché la calza è mia, ok? Ok, va bene! E la mia calza! Sei se nemmeno un dolce! La Befana la provata solo per me, ok? Ecco! Questa è la tua calza! Buona giornata! Grazie! E non ti permetto di toccarmi le mie cose! Ok! Ciao! Ciao! Ciao!